Credo che la partita dell'andata non avesse cambiato i valori in campo delle due squadre. Chi lo pensava o chi lo credeva, credo che fosse stato fuori dal mondo. Il Milan stasera ha fatto una partita sicuramente peggiore di quella dell'andata, ma ci sono stati molti meriti del Barcellona, perché il Barcellona ha fatto una prima mezz'ora dove non ci ha permesso neanche di giocare. Però questo non vuol dire che il Barcellona abbia meritato quello che è successo stasera in campo. Credo che per noi stasera passare il turno sarebbe stata una grossa impresa. È stato bello creare le aspettative giuste perché questo avvenisse. Purtroppo non è stato, sono molto dispiaciuto per i ragazzi. Abbiamo preso il secondo e il quarto gol praticamente uguali. Credo che quando una squadra ha cinque debuttanti che giocano contro il Barcellona è una partita così importante. Credo che ci possano stare degli errori. Questa squadra deve passare purtroppo attraverso anche queste sconfitte per cercare di crescere. Sono molto dispiaciuto per tutti, per i ragazzi, per la società, per i tifosi. La realtà è questa e poi, come sempre, il calcio è bello perché è questione di centimetri. Magari, nonostante che avessimo avuto un'occasione sola pulita nel primo tempo con Niang, magari saremmo qui a discutere di un'altra partita. E questo non avrebbe cambiato lo stesso il valore delle due squadre. Magari, nonostante che avessimo.